le auto sono da sempre la mia grande passione amo tutto di questo mondo dalla meccanica all'innovazione alle corse al brivido e le emozioni che solo quattro ruote di un motore possono dare nasco come meccanico ma molto presto divento un perito tecnico nel settore delle garanzie auto e diverse perizie effettuate per altre realtà assicurative mi hanno portato però a rendermi conto delle criticità di alcuni sistemi assicurativi che portavano il concessionario a trovarsi in difficoltà col consumatore nel momento in cui la vettura presentava dei guasti spesso non venivano riconosciuti gli interventi basandosi solo su clausole contrattuali senza considerare nel lato tecnico di una riparazione nei diritti del proprio cliente in base a ciò che dice il codice del consumo ed è da questa mia esperienza che nasce l'idea di strutturare un prodotto di garanzia diverso da tutti gli altri nasce così nel 2006 la fidelity car srl azienda ormai attiva e solida da 16 anni con sede in provincia di varese ed operativa in tutta italia è da allora che la nostra realtà continua a crescere in modo costante e per il solo merito della qualità del nostro prodotto fidelitica si propone agli operatori del settore automotive come partner ideale per la gestione della garanzia sia per veicoli usati sia per estensione di veicoli nuovi la nostra politica si racchiude in tre valori principali che sono fedeltà serietà e garanzia fedeltà rispettiamo gli impegni presi con il concessionario con il consumatore grazie a una procedura trasparente e conforme alla legge serietà non mettiamo vincoli obblighi e nemmeno massimali per il nostro dire e garanzia fideltica offre sui clienti una sola garanzia innovativa veramente conforme alla legge e al codice del consumo in grado di farsi carico degli obblighi che per legge spettano solo al venditore dandogli così una tutela a 360 gradi questi tre valori sono fondamentali per noi ed è per questo che li abbiamo rappresentati nel nostro logo aziendale con i tre cerchi che simboleggiano un matrimonio tra noi il dealer e il consumatore in questi 16 anni abbiamo creato una forte network di assistenza che conta su un reparto tecnico con esperienza ventennale nel settore auto una rete attiva di più di 2.000 officine tutta italia e un network di circa 30 artigiani specializzato in ogni tipo di lavorazione meccanica elettronica che va da turbo compressori a iniettori cambi automatici motori e persino tutto il nuovo mondo delle auto elettriche Fidelity Car è in grado di dare un reale contatto diretto con la nostra azienda sia al concessionario che al consumatore ed un prodotto su misura senza obblighi ma con la sola base solida di costanza e serietà reciproca offriamo anche numerosi servizi che permettono alla concessionaria di fare della nostra garanzia una vera e propria leva di vendita come assistenza stradale 24 ore su 24 7 giorni su 7 festivi compresi e su tutto il territorio nazionale ed europeo auto sostitutiva rientro passeggeri con rimborso completo e molti altri servizi in più per i nostri dealer e partner diamo dei vantaggi esclusivi quali consulenza tecnica modulistica contrattuale ricambistica e formazione gratuita di tutto il personale Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo Fidelity Car l'unica garanzia efficiente e conforme al codice del consumo